ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi come di consueto eccoci qua con il video dei prodotti terminati nel mese di ottobre però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale di iscrivervi cliccando sul pulsantino qua sotto e attivando anche la campanella di fianco così vi arriva la notifica quando esce un nuovo video se vi piace questa tipologia di video e ne volete vedere altri metteteci un bel like e se volete ancora non lo fate seguitemi su instagram vi lascio il link diretto giù nell'info box partiamo subito sapete se mi seguite sapete che io parto dalle cose che vi faccio vedere sempre per poi arrivare quelle che non vi faccio vedere spesso o comunque che ho provato per la prima volta su cui ci soffermeremo un po di più allora il cestino è bello pieno esce anche roba aspettate il cestino bello pieno come potete vedere e partiamo subito va bene partiamo ho terminato una confezione di veline questo qua della regina del marchio regina due veli mi sono piaciute acquistate da acqua sapone a un euro trenta c'è sempre la mia lo mio pennino fa fufufufufosa ok un euro e trenta regalata da mio amore poi ho finito la confezione di amido amido purissimo per il bagno della mantovani due euro 60 d'acqua e sapone potete trovarlo giusto sì e niente questo qua io lo utilizzo quando ho le irritazioni intime ne metto due o tre cucchiaini lo faccio sciolvere e poi ci faccio un bel bagnetto alla patatina se no lo potete tutti perché è una ragazza mi ha chiesto come lo utilizzavo se no lo potete utilizzare come per il bagno per rilassarvi come utilizzate magari sali da bagno potete mettere il cilindro questo un ottimo peli e diluvio potete farlo con questo o se no semplicemente se avete la pelle secca o sensibile ed è ideale per il bagno di bambini anche è un prodotto naturale di grande purezza ricavato unicamente dal frumento quindi ottimo io mi ci trovo bene infatti c'è scritto ideale per pelli delicate scusate poi è terminato vabbè una confezione di confezione di cotton fioc di risparmio del marchio risparmio casa 200 bastoncini e niente mi ci sono trovata bene poi ho terminato arrivo adesso rimettendo il cinturino dell'orologio due confezioni di dischetti questi quelli più grossi della cotoneve e questi piccolini della quando è comprati entrambi da tigotà quelli del marchio diciamo tigotà quando è li ho pagati un 99 centesimi qua vedete tutto sporco perché lo scrub che vi faccio vedere dopo ha lasciato e quelli della cotoneve 1 euro e 28 mi ci sono trovata tutti e due con tutti e due bene non lasciano pelucchi quindi ottimi davano bene poi ho terminato due confezioni di assorbenti uno quelli assorbenti ultra ali notte della quando è appunto e uno invece i soliti ultra idea allora che assorbenti quando è 0 99 centesimi da tigotà invece gli altri 90 centesimi d'acqua e sapone poi sto andando veloce perché comunque sono cose che vi faccio vedere sempre ho terminato le salviettine struccanti dell'imailaia non le ricomprerò mai più 25 salviettine salviettine viso idratante no è vera extra morbide extra morbide no era rigidissime non struccavo un cavolo non mi son piaciute non penso di ricomprarle non le ricomprerò acquistate a un euro 90 d'acqua e sapone no no bocciatissime quelle salviettine struccanti ho terminato invece la carta igienica umidificata anche senza alcool del marchio risparmio casa 25 poezzi con aloe vera e camomilla è gettabile anche nel bc ottima non irritava non buciava davvero ottima da portare in giro fantastica quella invece penso di riacquistarla e quella l'avevo acquistata a un euro 19 appunto da risparmio casa poi ho terminato anche questa qua di carta igienica umidificata sempre però questa qua sono 50 salviettine e la prendo da DM ma non il DM che vi ho fatto vedere il video è l'LD che è diventato DM no MD scusate non DM scusatemi MD che è l'ex LD buona anche questa questa si spaccava un po' era un po' fine fine però mi son piaciute entrambe poi ho terminato quella lì non mi ricordo perché avevo comprato a mia mamma e non mi ricordo farla a spesa e niente ho terminato il DAV il talcosoft antitraspirante questo appunto talcosoft buonissimo profumazione buonissima buonissimo lui non lasciava loni non lasciava macchie non irritava le ascelle è davvero ottimo questo voglio ricomprarlo 1,50 euro d'acqua e sapone fantastico davvero ottimo poi passiamo ai bagnoschiuma che ne ho tre questo giro aspettate che li tiro fuori ok vi faccio vedere vabbè questo che è lo shampoo doccia di Brochet al Monoi de Tahiti 50 ml me lo avevano dato in omaggio con un acquisto profumazione fantastica abbastanza buona di fiori di fiorito di estate di Hawaii buono piaciuto comunque poi sarà buono il palmolive al cioccolato al cioccolato chocolate passion doccia crema nutriente e devo dire che nutre davvero vi lascia la pelle stramorbida l'ha provato anche mia mamma li faccio mamma provalo e anche lei ha confermato 250 ml l'avevo pisato a un euro se non ricordo male sì d'acqua e sapone in offerta è fantastica è una profumazione proprio di cioccolato cioccolatoso vi avvolge è buonissimo poi ho terminato anche questo qua di Dermomed bagno e doccia effetti idratanti freschi shakerati shower gel scusate ghiaccio e passion fruit rinfrescante dermatologicamente testato anche in farmacia pH 5,5 500 ml fantastico anche questo l'avevo acquistato a 0,99 centesimi un euro adesso non mi ricordo più buonissimo anche questo profumazione fantastica non so se c'è ancora o era un'edizione limitata magari per per l'estate però buono mi piaciuto anche questo scusate poi poi cancello un po' di roba ok ho terminato l'acqua profumata che avete visto e rivisto di Sien acqua profumata allo zucchero a velo 150 ml appunto comprata da Lidl a 2,99 euro non mi è piaciuta perché si profumazione di zucchero a velo ma sul corpo non resisteva più di tanto non penso di riacquistarla non c'è tanto da dire poi passiamo sì alle cose un po' più cicciose che vi faccio vedere allora vi faccio vedere lo shampoo della Fruppis che avete già visto però ve lo faccio rivedere il Fruppis il Cucumber Fresh per capelli grassi shampoo fortificante purifica e riequilibria capelli grassi senza siliconi senza parabeni cute purificata capelli puliti permette di rimandare il prossimo shampoo è dimostrato non è vero a meno sui miei capelli che sono grassi perché non mi vergogno a dirlo ma ho i capelli grassi e alcune volte con un po' di forforina di di esclamazione questo shampoo non ha fatto una sega scusate non ha fatto niente di niente non purificava non teneva i capelli puliti anzi andavo a usare questo il giorno dopo dovevo già rilavarli quindi che rimanda lo shampoo assolutamente no l'avevo acquistato per fortuna in offerta d'acqua e sapone a 2 euro e 20 no da tigota scusate a 2 euro e 25 non lo ricomprò mai più non mi piace poi adesso mi sono data al bio quindi no no bocciatissimo poi ho terminato lo struccante di l'oreal struccante occhi waterproof strucca efficacemente il trucco a lunga tenuta non lascia vestiti grassi adatto anche per gli occhi sensibili che è stato sotto controllo oft ma oft e ciao Giulia oft oft l'amologico oft l'amologico ce l'ho fatta 125 ml io l'avevo acquistato all'outlet di l'oreal l'avevo pagato 3 euro e 90 mi è piaciuto non brucia gli occhi non ve li irrita non non ve li arrossisce non ve li arrossa ecco che forse è meglio gli residui grassi leggermente li lascia perché è uno struccante appunto bifasico lo potete vedere anche dalla boccettina si si vede che è un po' di oleoso lo lascia però mi è piaciuto potrei anche li acquistare 3 euro e 90 poi rimaniamo in tema skin care ho terminato il tonico pudificante di Bion Me questo l'avete già sentito tanto parlare sul mio canale è ecco certo era gli agrumi si sentiva tantissimo la profumazione di agrumi 200 ml l'avevo acquistato sul sito di Mente Rosmarino a 8 euro 50 quindi ha un prezzo abbastanza caro in non scontato perché mi sembra che dopo c'era l'applicazione di uno sconto comunque a prezzo pieno viene 8 euro 50 quindi abbastanza però ottimo mi è piaciuto tantissimo questo potrei anche riacquistarlo magari non a prezzo pieno però un pensierino ce lo farei poi poi sempre appunto rimanendo in skin care ho terminato il gommage purificante della linea sebo vegetal di Yves Rocher da pelli da miste a grasse vediamo cosa dice è senza siliconi oli minerali microsfere di polietilene e parabeni ottimo come avete visto ne ho già ricomprato un altro sono 75 ml è cambiato il packaging adesso acquistato da Yves Rocher a allora prezzo pieno viene 9 euro 95 io l'avevo pagato con lo sconto e quindi è venuto sui 5 euro 95 5 euro 95 sì 9 euro 95 ti farei un pensiero però devo dire che è un gommage davvero valido per la pelle perché vi purifica bene la pelle vi fa secchiare i brufoletti vi attenua la lucidità è ottimo comunque vi attenua anche sebo è davvero buono come potete vedere ho ancora la tosse lo scrub che vi dicevo prima che ha incriminato tutto è questo è lo scrub corpo all'argilla all'argilla gialla del Brasile estratto di zenzero e olio e olio scusate allora scrub corpo a base di argilla gialla del Brasile virgola estratto di zenzero e olio essenziale di licea cubeba che non so del marchio alga alga cell dovrebbe essere il marchio dovrebbe essere questo qua non lo so questo qua era emolliente e tonificante stimolante e tonificante 60 ml è privo è privo di derivanti animali c'è scritto scrabbava bene macchiava un po' il piatto della doccia però mi è piaciuto sa proprio di zenzero di limone di zenzero proprio di zenzero sa buono mi è piaciuto bello mi è piaciuto tonificante questo l'avevo acquistato da acqua sapone a 2,50 euro ci ho fatto 2-3 applicazioni poi ho terminato un altro scrub corpo che mi è piaciuto tantissimo è questo qua del marchio natural è certificato icea cosmesi naturale scrub corpo rimodellante per tutti i tipi di pelle con estratto di merograno è questo qua è senza OGM è privo di siliconi pretrolati coloranti privo di allergeni è testato al nickel cromo e cobalto è testato dermatologicamente 150 ml di prodotto quindi anche bio ha un buon inci questo 3 euro d'acqua e sapone in offerta era consiste in bianco era profumazione delicata di melograno dolciastra scrabbava bene e aveva l'effetto in crema scrabbava davvero bene lasciava la pelle soffice morbida ottimo davvero ottimo questo voglio ricomprarlo poi 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 altri due prodotti e poi passiamo alle mascherine ho terminato il contorno occhi di brochet 250 ml non è vero 15 ml questo qua non mi è piaciuto forse ce ne rendo ancora no non mi è piaciuto perché non faceva niente era anche abbastanza crumoso come il contorno occhi no invece mi è piaciuta è terminata la cipria in polvere libera sempre di primark 2 euro 50 my perfect color è una mineral powder nella colorazione cool sand io avevo 2 euro 50 davvero ottima completamente terminata come potete vedere ottima significava bene il vivo il viso non faceva grumi mi è piaciuta come cipria in polvere libera passiamo alle maschere sì perché non c'è più niente nel mio nel mente cade roba però nel mio cestino non c'è più niente ho terminato allora la maschera viso sebo normalizzante per pelli grassi ad azione serbo regolatrice di alchimilla piaciuta tanto 20 ml di prodotto acquistata da beautiful sul sito di beautiful a 2 euro 19 potrei anche riacquistarla profumazione di argilla però dolce mi è piaciuta questa è stop al testo sugli animali è certificazione cosmesi è certificato Ariab è qualità vegana è ottima comunque purificava bene è sebo normalizzante davvero adatta proprio alle pelli miste o grasse poi ho terminato il black sheweed peel off di montageness è un peel off all'argilla nera piaciuto anche questo lasciava la pelle bella purificata 1 euro 99 2,49 adesso non mi ricordo più da OVS buono piaciuto come peel off potrei riacquistarlo terminate anche queste due mascherine una al cetriolo e mela e l'altro un peel off al olio di arancia e vitamina C piaciuti entrambi più questo che il peel off però lasciavano una pelle bella morbida mi sono piaciute queste le avevo acquistate sul sito di pink panda a 2,99 euro sono sempre del marchio montageness però mi sono piaciute entrambe poi ho terminato questi cerottini di primark a 1,50 euro erano dei cirottini così trasparenti da mettere sui brufoletti e devo dire che facevano sparire il brufolo comunque se avevate un brufolazzo così rosso mettevate questo di notte alla mattina vi svegliavate e il brufolo era diminuito quindi ottimi non li ho più ritrovati fatemi sapere se voi magari li avete trovati ancora comunque ottimi poi vabbè cestino la spugnetta che è un po' distrutta come potete vedere è anche sporca però non sono stata lì a lavarla benissimo quindi ok basta passiamo ai campioncini terminati e non ho terminato tantissima roba di campioncini ho terminato la maschera e la maschera la crema viso idratante del marchio petti rosso e senza peg parabeni petrolati siliconi buona alla malva e papavaro mi è piaciuta e un profumino di il brochet il sel du du sur piaciuto niente di che non penso di acquistarlo niente questi qua sono stati tutti i prodotti terminati di ottobre fatemi sapere con un commentino voi cosa avete terminato io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti